Devo fare la genocide ragazzi Ovviamente aiutatemi eh, intanto la genocide devo uccidere tutti AC2 Fuovi di merda Devo già ammazzare lui no? Fuovi di merda Fuovi di merda Fuovi di merda Che bella lo è settimato Adesso la devo uccidere o no? Ok Va bene l'audio? Saltino Fuovi di merda Fuovi di merda Fuovi di merda Dai lo devo ammazzare Ok Vai Aspetta Devo ricordarmi Cazzo Fuovi di merda Fuovi di merda Ah ok Fuovi di uccidere 20 mob prima di fai dare Toriel Ma devo uccidere 20 mob prima di fai dare Toriel A serie raga Io non lo so che devo fare Bella Dario Dove faccio a svuotare le stanze Non pensavo ci fossero le stanze da svuotare Non pensavo ci fossero le stanze da tor estable Suusace Toilet Tu Embrata Tu Tu Ah non la sapevo sta cosa degli incontri casuali Regà Non lo sapevo regà Questa cosa qua è perchè io pensavo che dovevo soltanto ammazzare tutti i boss Tipo E' quello che mi capitava a tiro I will give you a cell phone if you'd have Vabbè Adesso si Ragazzi questo gioco lo faremo insieme a voi ovviamente Più avanti ok Faccio tutto insieme a voi regà Ok Va bene Ma sto una pippa Vabbè ma non devo fare perfect Mi preoccuparti da che ci sono dei modi per citare incontri casuali Percisari Cioè In che senso Fastidio Percisari Cazzo Ci saranno le speed Una su minecraft ragazzi Sto prendendo una piccola pausa Per variare un pochettino Di modo che non mi spacchiate più i coglioni Bella Bella bobby Ma sono tirate oggi Bella regà Grazie bobby Vabbè Ma che cazzo ho fatto a farmi colpire prima Incredibile Marigama Sono veramente un bot Sti cazzo di incontri Gioco si schifo Battlefield Sì No no Gioco veramente Se vuoi un trucco E' molto semplice Sarei premi su e giù La freccetta verso un muro No No Non si è risolto Cioè Ho dovuto mettere 60 Hz Per risolverlo What? Così Così Bella Tamu Ma Luke l'ho ringraziato 1996 Ma quanti cazzo di mosse ci sono in una stanza Regà Ma in una stanza O in una zona Bella Sam Vai tranquillo Ah ok No Pensavo fosse Ogni stanza Cioè ogni Avete capito Insomma Eh sarebbe folle infatti Ragazzi In realtà Questo gioco Si può giocare Tranquillamente Col pad Tranquillissimo Col pad La tastiera Ci sta Ho due tasti Ho tre tasti Oh No 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 Sarà pure quella più noiosa Ma magari è quella Con le boss fight più belle Finite questo O continuamente speedrun di minecraft Immaginate di finire questo Completare il gioco Ciao spalmatrice E poi andare a fare minecraft E fare anche il record lì Ma se su instagram avete votato In 4000 per Andes 4000 Andes è quello che ha fatto Più voti positivi di tutti Che cazzo ho Idaio Hanno appena leakato i danni su youtube Ok Ok Grazie a tutti. Devo farne menti. Ragazzi. Questa cosa del guadagno, se qualcuno ovviamente uscirà fuori con Ma come guadagnavi tutti sti soldi e non l'hai mai detto? Oppure wow, stiamo dando i soldi ad uno già multimilionario, peripiparapà. Cioè chi fa questi discorsi qua è una delle persone più stupide e ottuse della terra. È una stronzata clamorosa perché ci sono 87 miliardi di persone nel mondo che guadagnano tantissimi soldi, molto più degli streamer. E comunque le persone li supportano fondamentalmente in qualche modo. Non si sono mai posti la domanda. Cioè come dire, non vado più al McDonald's, mi piace il McDonald's, non vado più al McDonald's perché non voglio dare i soldi al McDonald's. Già sono multimilionari. Non ordino più su Amazon perché non voglio dare i soldi ad Amazon perché sono multimilionari. Non compro più i dischi di questo artista perché già c'è i soldi. Non... Qualsiasi cosa. Ma chi cazzo è si mette a boicottare la nipote, dai? Sono d'accordo con il non dare i soldi al McDonald's. Ma guardate il link e non ci capisco niente in tutti voi i numeri. Tutta da continuo comunque a starmi sul cazzo. Beh. Era comparso scritto che erano finiti? Sono alto 1,80. Probabilmente si portero a Delta Rune. Grande Diego, bellissima l'amichetta Iran di sto gioco. Ha un finale un pochino triste. Ma dopo tutto Bologna Capitale non è così male. Va bene, magnumone. No, non è la prima spalmatrice. Ho già fatto la... Tanto tempo fa. La run normale. La pacifist. Basta. Dato l'ho guettrissato perché i soldi delle cucite se li merita. È sembrato male. No, no. È sembrato male. È sembrato male. Quante volte l'hai droppato? Zero. L'ho finita tutta a due le run. Dato, guadagni più se guardo pubblicità o se mi subbo? Ragazzi, ma tralasciando il fatto che spero non stiate utilizzando Adblock, se vi abbonate non le vedete più quelle pubblicità di merda. No, sto scherzando, sono bellissime. Ultimamente chi c'era? C'era quella della Lenovo e Terenas, mi pare, vero? Funziona, adblock? Sì, vi compare Terenas. Quindi se non volete più vedere Terenas... No, niente. No, niente. Ah... No, niente. No, niente. Grazie a tutti. Ok, ok, Toriel. But nobody came. Tocca ammazzato a Toriel, raga. Allora, tocca ricordarsi sta cosa, eh. Va bene? Tocca ammazzato a Toriel. Tocca ammazzato a Toriel. No! Sono imbecille. Il minigioco è più stupido dell'universo. Ok, papà. Banno un bar di game. Sta cosa è fighissima. Metto un battante. Ma che sono le rocce che parlano? Che palle, madonna. Tutte ste stronzate che ci stanno in hand. Dai! Che stupido. Adesso, sono stati divertenti. Cosa c'è il fantasma, vero? Ho visto il fantasma? Ah, oddio, il fant... No, il ragno! Stanno sulle mani, cazzo! Naps da block. Clicca Che poi sta cosa è strana Perché nobody game Che vuol dire? Cioè nel senso Ah aspetta Ok Ok devo cadere lì E premere il tasto Sì lo so che nessuno è arrivato Ah quello dei funghi Però nel senso Se io c'ho un fight Vuol dire che c'è sta qualcuno no? Questo com'era da fare? Non mi ricordo più questo puzzle Perché già è aperto? Non mi ricordo Aspetta 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 Che non staccavi in cazzo Ok Che fastidio What? No Vabbè le avrei fatte anche senza Senza fare il gliccio del muro comunque Ok Qua che dice If you can't read this Press the red switch Oh mio dio Fa sempre negli stessi punti Ok If you can't read this Press the green switch Uh Che culo Che culo Quindi quell'altro non era il verde Siamo arrivati no? C'è sta qualcosa Des... Boh Boh Toccare un peggio il culo mo? Ok 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 carina mi porta con la manina vitto e mi accarizza la tetta dai no l'ho già fatta tutta sta roba come si fa che mi fai già la roba ok è vero perchè faceva più danno l'ho già fatta tutte ste cose regà ce l'ha da prendere qualcosa in particolare la devo fare la genocide mi dispiace regà ragazzi non giudicate questo gioco dalla copertina mi raccomando mi dispiace per chi in realtà non ha mai visto questo gioco perchè un po' lo sto schippando se no non finimo più l'ho già giocato regà l'ho fatta due run quindi lo so com'è non mi ricordo a memoria i dialoghi le cose perchè ci ho giocato due anni fa mi pare o due o tre anni fa quindi c'avevo mi sembra 20-30 spettatori quando facevo questo forse o 50 se volete giocarvelo da soli e fare le run che io non vi porterò in live forse sta su instant gaming controllate un po' scontato controllate un attimo cazzo almeno questo ci sarà se codice sconto magari ah non era ancora il momento non è ancora il momento cazzala ma che mazzalla bello rigo vi faccio una piccola prefazione questo gioco praticamente parte con tu che cadi in un buco non mi sembra in un pozzo sei un umano e ti ritrovi dentro questo posto che è un posto pieno di mostri ok e andando avanti nel gioco scopri che questi mostri stanno lì per un determinato motivo mostri sì come li vuoi chiamare eh molti non lo conoscono ah siete scemi poi Asgore non era così cattivo era buono era un buon accione asgore asgore non era così ho fatto andare 19.000 al primo colpo poi Grazie a tutti. 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 Ah, 16 left, ok. Te lo dici adesso? Ma già da qua? Ok. Vai, vai, me li metto a fa' qua. Devo continuare a parlare con Sans. Quattro... 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 Ma che cazzo... Ma che cazzo... Ma che c'è... Ce le ho le ore salvate su Steam, eh, stronzo Mamma mia Quanto sei imborghesito da quando stanno in studio nuovo Pazzesco Tanto Basifist è la prima rana, non puoi farla Dario l'ha fatta, mi ha detto Ma in realtà io non la chiamo mai Non so mica Nanni, Dario Al massimo metto la cosa Come si chiama? Riscatta, chiama Mangaga Stipendio perso Scesa la posizione 7000 nel leak E poi quanti sono nel file, quanti sono i streamer? Ah, perché sta sotto Compari sotto la chat La notifica Ma non è vero Ma non mi dite un cazzo Ma perché non me l'avete mai detto? Ma non mi dite un cazzo Eh sì, purtroppo i soldi hanno cambiato tutti quanti Io non sapevo che Dario guadagnasse tutti quei soldi Perché se te l'avesse detto qualsiasi altra persona di questa chat Non te ne sarebbe fregato un cazzo Stronzo Bam Ma vaffanculo Che ieri mi avete cagato il cazzo con il tearing tutto il tempo Da Doretta ai singoli stronzi che trollavano È ovvio che non Doretta ha la chat molte volte Perché siete dei troll Tra i due barre nere giganti che nemmeno in un porno della Nappi Sposta la notifica sulla sinistra Almeno non copri la chat Non c'ho voglia Non me va Grazie Volt Ma se Ma si copre per due secondi Qual è il problema? No, non me va Ma adesso che sono stati liccati i guadagni di Dario Posso evitare di ringraziarlo per i cheers? Ok Sono esentato? Tutti ti ho scammato Adesso ci stanno 10.000 persone Tocca salire la classifica Tocca arriva a 2k Dai Che sprono è Cucca incredibile Stasera sarà la live più bella della mia vita Calcola che non vedo l'ora che mi dicano qualcosa per distruggerli tutti come verbi Ora cerco anche Ahmed per un piccolo aiutino Così sono ancora più carico Sto parlando di spuma bionda chiaramente Madonna quanto Eriptico Data senza Dario tu non ci saresti nemmeno in quella lista Ringrazia il cavo E senza di me Lui sarebbe Almeno Ma dico almeno 5 posizioni più sotto Ma vaffanculo Lori Ciao Giulia No non faremo mai la pace Sto facendo la genocide Giulia Devo fare la genocide a tutti gli effetti Sarei semplicemente più vuoto Tu Nanni e Volpe Mi date più di uno scopo Per andare avanti a testa alta Che romantico Oh mio Dio Che romantico Ma che cazzo è Ahmed? Ciao chi è Ahmed? 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni Me che vuoi Claudio Z Non faremo la vita Va bene Cloud Quanti livelli devo fare? No devo uccidere tutti i mossi della zona Tranquilli rega non so tante zone Dai si può fa Ok Uno Dai Che dice qua? Che mi consiglia deve usare? Sto gatti Sto gatti Allora Papyrus ragazzi Per chi non lo sapesse Non ama molto gli umani Beh fammo l'ultimo Levamo zero dal cazzo Ma in questa zona non ci sono nemici Diego ma lo sapevi che il personaggio Di Papyrus usa il Papyrus Come font per i suoi testi Pazzesco P-O-G-G-I-E-S Che è successo? Perché non sono riuscito a farlo? Ah perché sto usando un'arma di merda No devo rimettere il cortellaccio Ok No body cane Sì 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 Eh sono le 20 Ci fermiamo? Continuiamo domani ragazzi Domani io lo continuiamo per benino Adesso dà da video Dà da video perché c'ho un video molto importante da mostrarvi Dai madonna Sì 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 A presto